In provincia di Caltanissetta, a Sutera, il 26, 28 e 29 dicembre, poi il 4, 5 e 6 gennaio, si svolgerà la ventiduesima edizione del rinomato Presepe Vivente di Sutera, promosso e organizzato dall'Associazione Camicos, in collaborazione con il Comune di Sutera e con il patrocinio dell'Assessorato Regionale a Sport, Turismo e Spettacolo. Il Presepe Vivente di Sutera è, dal 2005, inserito nel REI, il Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana. Il Presepe Vivente di Sutera sarà visitabile dalle ore 17 in poi. Il biglietto d'ingresso costa 6 euro, ridotto a 3 euro per i bambini da 3 a 10 anni. Ascoltiamo il Presidente dell'Associazione Camicos, Paolino Scibetta, e l'attesorriere Lina Miliotto. Siamo a Sutera, in provincia di Cattanissetta, un piccolo paese, a circa 30 km da Agrigento, dalla Valle dei Templi. In questo nostro piccolo paese, nel borgo del quartiere Rabbato, un quartiere arabo normanno, tra l'altro anche insignito del titolo di uno dei borghi più belli d'Italia, ogni anno si svolge la manifestazione del Presepe Vivente. Quest'anno siamo arrivati alla 22esima manifestazione, quindi da 22 anni che realizziamo questa magnifica manifestazione ai piedi del Monte San Paolino. All'interno del quartiere Rabbato, ripeto, uno dei borghi più belli d'Italia, si svolgono varie attività dentro queste piccole casette, con i tetti a volta, che si affacciano in un dedalo di viuzze che si intessecono tra di loro, tali da intrecciare una vera e propria ragnatela di strade, dove a volte si passa da soli, quindi una sola persona può transitare in questi piccoli vicoli. All'interno di tutto il quartiere ci sono circa 40 postazioni che rievocano i mestieri dei nostri antenati, quali il calzolaio, il forno, il mulino e quant'altro. E poi chiaramente il tutto coronato dalla capanna della Natività, dove rievochiamo la nascita di Gesù Bambino, con tutti i personaggi veri e viventi, in abiti dei primi del Novecento, che allietano la serata con svariate musiche, nene e natalizie, nonché una serie svariata di degustazioni che chi ci viene a visitare poi si accorgerà e saprà gustare materie prime tipiche dei primi del Novecento cucinate in loco dai nostri concittadini. Il presepe vivente di Sutera inizia il 26 dicembre, le date successive sono il 28 e il 29 dicembre 2019, e poi 4, 5 e 6 gennaio 2020. Vi aspettiamo numerosi, noi a nome dell'Associazione Camicos e del Comune di Sutera ci attendiamo, tanta presenza e tanta partecipazione di pubblico.